Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Sara e questa è una Beauty Quick Review Iniziamo subito, oggi vi voglio recensire questo fondotinta che è il Dior Backstage Questo qua, che forse l'anno scorso quando è uscito era super chiacchierato perché l'avevano mandato a mezzo mondo Ricorda tantissimo il Face & Body di MAC, penso che sia proprio fatto apposta Comunque questa è una confezioncina, un packaging molto molto carino e molto pratico Soprattutto perché è in gomma e non si rompe, non è pesante e va benissimo Oltretutto ha il beccuccio, non è come quei fondotinta che hanno il buco gigante e non ti danno neanche una pompetta E soprattutto è un fondotinta molto leggero Allora io il fondotinta di MAC in realtà l'ho provato soltanto una volta, due volte, tanto tempo fa E non mi piaceva, almeno su di me Perché è un fondotinta molto luminoso e per una pelle misto-grassa Ora forse anche mi sto secca la mia, quindi magari al tempo non andava bene, forse adesso sì Al tempo non andava bene Questo non è per niente un jupe Si assomiglia soltanto per il packaging Allora questo è un fondotinta sì leggero È molto leggero Secondo me non è per niente luminoso, è abbastanza matte come effetto E la coprenza è medio-bassa Dicono che sia modulabile, ma secondo me no Per niente Quindi ve lo consiglio se avete la pelle leggermente luminosa, lucida Non grassa perché non penso riesca a farcela con una pelle grassa E state attenti soprattutto se avete magari, come me, un po' di screpolature qui nel naso O comunque avete delle zone secche perché secondo me tende a evidenziarle Tutto sommato il fondotinta è molto bello E ha un vasto range di colori Infatti sicuramente troverete la vostra colorazione Io di questi mio due li ho presi per lavorarci Quando ci sono delle pelli praticamente perfette E devo dire che comunque si stende bene È abbastanza leggero Però come vi dicevo Non copre tutto Ha bisogno di un aiutino Se non avete imperfezioni troppo evidenti Fa il caso vostro perché uniforma bene la pelle A me è uniforma sì Però come vedete le macchie non me le copre Io adesso su ho questo Ho tanta roba addosso in realtà Però questo Ora vi faccio vedere il pezzo del video dove stavo applicando questo E potete notare che le macchie non me le copre Mi dà semplicemente un po' di uniformità Ma niente di che E quindi è un bel fondotinta Però sinceramente 36 euro Forse non se li vale tantissimo Ci è molto meglio per molto meno Carino Fa la sua scena Perché comunque è Dior Ma Non me la sento di consigliarvelo troppo Soprattutto se Settello budget Fatemi sapere cosa ne pensate di questo fondotinta Perché ovviamente le recensioni sono sempre molto soggettive Può cambiare da pelle a pelle Da persona a persona Quindi fatemi sapere Io di solito uso il pennello Potete usarlo anche con la spugnetta Questo fondotinta Perché Si stende abbastanza bene Non si fissa subito Quindi avete il tempo per lavorarlo Bene Spero che questa mini beauty review vi sia piaciuta Vi sia stata utile E molto mini Perché ci ho messo veramente poco Meno di 5 minuti Ricordatevi Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella Lasciatemi un pollice in su E ci vediamo alla prossima review Un bacione Ciao